E' bastanti insieme su una creaturina così piccola, non ce ne sono tante in vita, è l'unica, infatti tutti volevano che la battevo, che dicevano è impossibile che sopravviva con queste due malattie gravi, è invece sopravvissuta, è vero Cettina che sei sopravvissuta? E ti sono sopravvissuta, ma ora voglio mangiare, è vero che vuole mangiare Cettina? Sì ho bisogno della pappa, però ora un pochino allo stomaco grosso grosso, mi devi fare mangiare e bere e poi fare i bisognini pure, perché se no mi pulisci tutta io poi mi sbatto nella popò e divento tutta una popò io. Ok, ora vi saluto a tutti, vi auguro una buonanotte, qua abbiamo nonna Lea.